Un applauso, un grande canale, a secolo, agli altri ragazzi che sono qui, a secolo. Volevo mandare anche un saluto, un caro saluto al Presidente regionale, Gianfranco Girardi, e alla sbattatrice Angela Bocchio, che loro sono stati in udienza dal Papa, e quindi loro sono stati qui presenti, ci mando un saluto per tutti. E noi lo accettiamo e li salutiamo con un applauso. Li salutiamo con un applauso. Grazie a tutti e grazie a tutti.